professionalità e cortesia tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe l'officina di utensili più vicina a te pareggi per la cavese e anche per il latina rispettivamente con alta mura e messina gli aquilotti potevano recriminare per alcune occasioni non concretizzate mentre per i pontini il risultato non fa una grinza avendo trovato sulla propria strada un messina determinato a fare risultato domenica c'è cavese latina al simonetta lamberti inizio alle 18 e 30 per questa gara tutte e due le squadre si fronteggeranno senza assenze dovute a squalifica in particolare era in latina ad avere un calciatore diffidato mastroianni il quale ha evitato l'ammunizione che gli avrebbe potuto far saltare la gara di cava il trapani vince ancora fuori casa stavolta a spese del potenza che nulla può contro il ciclone granata 1 a 5 il cerignola di mister raffaele affronta con coraggio il catania e porta via lo 0 a 0 dallo stadio cibali primo successo per la casertana a spese di un taranto che ormai da aprile non riesce più a fare il risultato e resta staccato sul fondo classifica ancora non arriva la prima vittoria in campionato per l'avellino affidato ora alle cure di biancolino stavolta è il turris che blocca gli irpini sullo 0 a 0 a torre del greco il foggia cade in casa col giuliano paga l'allenatore brambilla sostituito con ezio capuano battuta d'arresto interna anche per il crotone all'oscida passa il sorrento ma nonostante i malumori della gente la società calabrese non tocca la posizione di mister lungo a cui rinnova la fiducia ieri il picerno ha giocato bene ma ha ottenuto solo un pareggio a biella con la juventus next generation dopo il gol bianconero di kudrig ha pareggiato per i lucani energie è stato però il giovedì del monopoli che ha battuto il benevento in casa e ha così raggiunto addirittura il primo posto decisivo il gol di viteritti nel finale da mercoledì la cavesi ha cominciato a preparare il suo ritorno in campo al simonetta lamberti con il latina sono sei punti finora conquistati dalla squadra allenata da raffaele di napoli mentre i latinensi guidati da padalino hanno riportato un punto in più essendo a quota 7 il tecnico aquilotto potrebbe tornare a un assetto più tradizionale un 3 5 2 dopo aver sperimentato bene il 4 3 3 varato per la partita di bari anche se lì gli aquilotti hanno solo pareggiato la cavese proverà a ritornare a vincere dopo quattro turni senza successi già in prevendita i biglietti per assistere alla gara di domenica si va dagli 11 euro per la curva sud dei cavesi fino ai 38 euro per accedere in tribuna quindi nessuna variazione si prevede anche un buon numero di tifosi da lazio sempre allo stadio simonetta lamberti nell'ottica del progetto cavese per il sociale in collaborazione con varie associazioni sono organizzati screening cardiologici gratuiti per la giornata di domani dalle ore 9 alle 13 presso un ambulatorio mobile allestito di fronte allo stadio con la presenza di medici affermati nel ramo questo nell'ambito dell'iniziativa denominata un cuore da campione appuntamento presso la zona tribuna centrale dell'amberti grazie a tutti